La parola Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio Roberto per quest'altro contributo, abbiamo presentato qui qualche tempo fa l'altro suo libro, siamo molto prolifico. Questo libro in qualche modo è nella stessa direzione, cioè il futuro si può affrontare meglio quando si ha la capacità di ricordare in maniera appropriata quello che è avvenuto in passato, non per motivi di nostalgia o anche non solo per motivi di nostalgia ma perché sicuramente nell'esperienza e quello che è stato fatto in passato si può trovare la forza di stimoli per farsi più meglio in un futuro che a stessi eventi di questi giorni non rendono forse così facile ma che comunque grazie alle nostre tradizioni, alla forza che deriva da quello che è stato fatto in questa città in questi decenni, in questi secoli, può essere certamente più facile affrontare. Quindi mi limito a queste parole, vi ringrazio, vi ringrazio Roberto e poi vi faccio auguri per la sua carriera di scrittore che ogni anno e mezzo ci dà qualcosa, la spieghiamo con la stessa prossima. Grazie. Non lo sono, ho introdotto letto in meno di una settimana, quindi questo sta a significare che ho introdotto una lettura molto piacevole, una lettura che scopria molto bene, è una lettura che interessa. Ho detto con Rocchi scrivendo la storia di tante persone, in questo volume, tutto bianco e nero, che io ho dato un po' di coloro, non le postite, ma state tranquilli, non è che tutti costitavano un riferimento oggi, altrimenti la partita neanche siamo vedendo, ne andremo a vedere. Ecco, è riuscito a raccontare uno spaccato di vita sienese, e questo è molto importante, oltretutto l'ha fatto in una maniera un po' particolare, facile da riuscire a togliere, ma ascoltate che cosa racconta Roberto Morrocchi di questo. Allora, io e il mio papà avevamo assistito alla prova tra una terrazza, proprio sulle materassi. Quando scendevo per entrare in contrata, trovavamo tristizia seduto su un ladino del portone. Non mi sono fatto niente, non mi sono fatto niente, e non sono voluto salire sull'ambunanza. Cioè, tutto questo lo raccontavo al papà, il mio papà, che hanno detto, «Il mare, il più difficile, il più difficile, non sono già da tredici anni». Non sono voluto sapere sull'ambunanza, ma nessuno per lui va a prenderti, mi vedete, oggi sei ben pensato, no? Un pantino che casca, a san mattino, e nessuno va a prenderti. O per salvare, o per picchiare, o con quello che c'è, vai a prendere, vede sì. Avevamo, fu così che mio papà, dopo essersi guardato un po' intorno, lo vedo, eh? Questo uomo che si guarda e si dice, ma che faccio? decise di portare il fantino in conto. Avevamo l'auto in Pia del Sole. Allora non c'era l'asso a piedi e non ci restò che mettere il fantino fra di noi, portarlo a piedi all'auto e da lì, passando da Roma, cerchiamo strada massitana e il giungelo. Arrivamo in San Marino. Pensate un po' che in un'inizia di particolarità. Erano andati a prendere il fantino al pronto soccorso del Santa Maria a Piazza del Pio e non l'avevano trovato. Aveva fatto tante cose che pensavano che fosse scappato e invece l'avevamo portato noi ed io in particolare ero orgoglioso di aver viaggiato con il fantino, anche se lui non aveva spinginato la loro tristezza. Allora, in questo libro ce ne sono non decine, ma centinaia. E poi il bello di questo libro c'è anche un altro aspetto. Il bello di questo libro è che non si racconta soltanto e si cita soltanto di 54 personaggi, ma si citano tantissime altre persone che assieme a questi personaggi hanno fatto sì di creare in ogni rione, in ogni portale, in ogni pezzo di storia di questa città un qualche cosa di veramente molto importante. Qualcuno non te l'ha perdonato, è stato sapere. E allora ecco che riesce a ricamare tra un personaggio e l'altro, tra un aneddoto e l'altro, anche le storie di altre persone che poi le ritroviamo qui e che hanno contribuito assieme a questi personaggi a fare tante cose belle, tante cose per questa città, perché sono nominati anche i personaggi. Ecco, i personaggi, me lo sono segnato, tutto sono undici, di cui tre sindaci, uno ce l'abbiamo qui con noi, questi personaggi di cui tre sindaci, io ho scoperto tantissime cose che non conoscevo, tantissime cose che non conoscevo e quindi ancora di più questo libro è interessante perché magari molte cose le sai e ti piace riviverle, ma tanto che hai detto di tante cose, io per esempio le conoscevo, come non sapevo che il Montagnani, il pittore senese Montagnani, fosse un grandissimo amico di famiglia, era un grandissimo amico di famiglia, tanto è vero che una sera si trovarono in un ristorante, in Piazza Dipendenza, Piazza Dipendenza, però c'è un'altra, ok, allora il Montagnani aveva invitato di Toscoli ed eravamo tutti a sedere da�ado, introducevole a Tavolo, avevo undici anni, insomma c'era, 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 c'era perché a un certo punto il Montagnani ha tirato fuori dalle tasche il pennarello rosso il pennarello blu, il pennarello nero, la coppita anche, è vero, no, è pazzesco, cioè ti ricordi come ha tirato fuori dalle tasche le morti e le matite. E perché aveva tirato fuori i mani? Perché Montagnani ha dato il babbo di Roberto e gli disse «Non ho soldi per pagare ai miei amici». E come si fa? E Zuvapo? E il tonno. E il faglio? E il faglio? E il faglio? E il faglio? E il faglio dipinto. E dice «Che cosa ti dipinto? La piazza del campo». E' un grande faccio di tratti e pasta di tonne che gli derivano in terra. E allora va lì su un cartuceno, fornito, rosa, e fa questo schizzo, grazie al capo, con questa torre, no snella, di brutti, pareva una modella che stirava veramente. E' vero? Quindi, il babbo di Roberto non può pagare la cena, però portò a casa questo qua, un esempio che non si fa. Bene, l'ultimo anelto che poi vedo, e poi guardiamo una lettera partita, è questo. Come inizia Roberto Morrocchi a scrivere? Cioè, chi è che gli mette la penna in mano, oppure una macchina da scrivere con i tassi, e comincia a scrivere. Indominate un po' di A? Don Vittorio Lucci, che gli dice «Devi fare un articolo» su chi era? Il torneo di Tennessee. E' un torneo. E' un torneo. Cioè, la roba… Qua si fa nel piano. Perfetto. 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 Allora, il Morrocchi si mette lì, scrive questo articolo di velo un po' più lungo. Perché ci stavi prendendo gusti, lo detto, e la nostra storia è un po' per il giornalino. Va da Mario Scendi, altro personaggio per cui viene raccontato, e Mario Scendi vede questo ragazzo, vede questo articolo, ha scritto «No, guardo un po' lei, no, penso che te lo darò, però per la prossima settimana non ce la facciamo». E il Morrocchi si aveva avvio un po' smonzonato, perché insomma ci aveva schierato, non questa prima unificazione come data torta. E poi cosa succede dal barbiere? Mentre lì dal barbiere fa un tupolino dal manaco, eccetera, gli capiva le pagine dei scrittori e vede il suo articolo. E lì nasce la storia di Roberto Morrocchi. Ma firmato per intero. Firmato per intero, neanche un taglio. E lì forse nasce veramente la storia di Roberto Morrocchi, giornalista, di Roberto Morrocchi, scrittura. Io ti devo ringraziare perché sono stato il primo a leggere questo diritto. Io l'ho fatto molto, ma molto volentieri, di risparmio in tutti gli stati di costituzione, ma vi garantisco che ci sarebbero da leggere. Ah, questo bisogna che lo faccio. Scusatemi, ma questo bisogna che lo faccio. E' per l'entrima di Don Fantino. Lazio Nomenini, detto Giove, che per me è stato fatto di grande amico, ha sentito un po' che cosa succedeva a credere che avevamo accompagnato in tristezza in macchina del Morrocchi incontrata, però sentitei che cosa succede, che cosa racconta. Dopo una prova di mattina, all'altezza della Costarella, Lazio esce, perché Lazio, non Lazio, quello è Lazio, alza e cammina, questo dice Lazio. A chi non ha avuto? Da così tanti, 40, non ha avuto, ma ha fatto un sacco di vadini dice, perché era abitissimo, è uno stratega all'interno dei canami, cercavano tutti Lazio, cercavano tutti là, detto Giove. Esce dal gruppo e se ne va verso gli alle pellegrini. succedesse ora, giornali e media ci monterebbero sul caso, allora invece, anche se la cosa sembra strana, gli andai dietro, lo presi per un bacio e lui sorridendo mi disse, non scappo mica, voglio solo salutare mia moglie e chiedere come stanno in casa e come vanno le cose, al bacio e così fu, sua moglie lo aspettava sulla soglia della macelleria che aveva rilevato all'inizio della via. Quindi, vedete, un riferimento della macelleria che ci sarà stato, quante volte ci è arrivato a più ci sarà stato, con un rivolso, con qualche macera, è importante anche queste nuove storie, perché ricostruirsi una buona sera e adesso forse si è trasformata, forse anche troppo dolce. Un bacio sulla mancia, un saluto rapido, qualche ora, forse, mi spigliate le ore più via, mentre Vinto stava facendo un po' di frutti in una musella all'altezza della baccheria di via di città. Sono ricordi, secondo me, strettitosi. Sono ricordi strettitosi e ora chiudo veramente, perché leggendo queste righe adesso vi do l'idea di quale spessore può avere questo libro. Io mi auguro che lo possano leggere, sì, persone alta, ma anche i giovani, soprattutto i giovani, perché i giovani oggi non hanno più, come dire, la fortuna, perché noi ci consideriamo fortunati, di avere chi gli racconta questo messo, perché incontrata purtroppo i grandi personaggi adesso sono quasi tutti scomparsi e loro sì che si perdevano, perdevano molto del tempo, del loro tempo, per raccontare ai giovani le loro storie, le loro allegro. Questa era una cosa molto bella. Allora, volevo chiudere qui, con questo bozzetto mio personale, ma come si fa a non ricordare l'ultima volontà di Piero Iannone, capitano della giocciola, legata al mondo della contrada? Piero Iannone, quando sarà, lo scrisse, voglio che accanto al paggio della giocciola ci sia anche quello della frattura, ad accompagnarvi. E così è stato. Questo è il valore di questo libro, è il valore di Sena, è il valore delle morale, è il valore della nostra storia. Grazie. Palio in memoria è il libro di Roberto Morrocchi, che racconta la storia di 54 personaggi di Siena e dintorni. Una fatica, tra virgolette, che Roberto ha voluto dedicare sia alla sua famiglia, perché è giusto che sia così, ma all'intera città. Io questa la dedico alla mia famiglia, perché è giusto, ai miei due niposi, figurati, ma la dedico a tutta la città. Io dico lì che saranno quelli degli Anta, ci troveranno tante cose, ma spero, in fondo al cuore davvero, con tutto il cuore, che lo leggano anche i ragazzi. Perché è la memoria della città dagli anni, diciamo, 60 almeno fino a tutti gli anni 80. È la mia di memoria con personaggi che ho intervistato, con cui ho parlato, che mi ricordo con affetto, con amore, con simpatia. Qualche volta con Astio, come succede, con qualche fattino, e magari mi ha vinto diversi padri nella tortuga, ma sono dei grandi comunque. E quindi io questo libro l'ho fatto, l'ho voluto fare, lo dico perché, insomma, io ho avuto un momento difficile. Mi ho detto, figlio, poi, ognuno nella vita c'era tanti momenti difficili, però io ho detto, ma io ho tutta questa roba, block notice, appunti, perché non provare a fare un libro? Mi ha seguito, come un ombra, Davide Cantagalli, con il quale avevo raccolto, devo dire, il successo con la fabbrica, se uno pensa a quello che è successo, vabbè, la fabbrica degli Scudetti, e ci è venuta l'idea di questo. Il titolo, Palio e memoria, me l'ha dato Maura, la compagna di Duccio Balestracci. Ci sono tanti personaggi, però il libro va letto. Io vi posso raccontare un aneddoto, due aneddoti, ma poi il bello di questo libro, secondo me, è leggerlo. E poi magari parlarne. Cioè, quando mi trovate per la strada, mi potete dire, oh, bordellotto, l'ha sbagliato, questa osa, un è così, quest'altra... L'importante però è che ci sia in tutti noi l'attenzione verso personaggi parecchi diversi che ci guardano dall'assù e che comunque hanno fatto grande la città. 350 pagine, o giù di lì, 70 foto in bianco e nero di Mariolino Appiani che, assieme a Roberto Morrocchi, ha dato colore. Colore fino a un certo punto perché sono rigorosamente, e dovevano essere rigorosamente in bianco e nero, ma ha dato veramente spessore e colore, un colore caldo alle narrazioni. Mariolino Appiani non lo si scopre adesso, ha un archivio fotografico veramente prezioso. 200.000 negativi. 200.000 negativi, soltanto per catalogare. E poi ci sono queste sette vignette di un disegnatore dello spessore di Emilio Giannelli. Ecco, tutto questo arricchiscono l'opera, arricchiscono l'idea. La crepe, sì, no, questi sono il plus, no? Ora va di moda per dire il plus, il plus, poi invece è plus perché è latino, ma insomma lasciamo stare. E' qualche cosa in più. Poi io mi sono soltanto limitato a scrivere, sono convinto che tantissimi altri giornalisti senesi lo potevano scrivere. Il problema è un altro, il problema è mettersi lì, scartabellare, scrivere perché è bello, ma è una fatica. Bella, ma è una fatica. Ma dopo le fatiche c'è sempre tanta soddisfazione, come è stato soddisfacente vedere l'aula magna storica dell'Università di Siena, piena nonostante che in questo momento stia andando in onda la partita tra Italia e Spagna, che non sappiamo neanche il risultato, con due ospiti d'eccezione, tantissimi anche personaggi raccontati, ma con due ospiti d'eccezione, due signore, anzi due signorine, missus, sono i due ambasciatori del Regno Unito britannici, uno a Santa Sede e uno a Roma, che hanno dato veramente... Hanno dato lustro, hanno comprato il libro, hanno voluto la dedica... Perché sono innamorate di Siena, caro Roberto. E io li ho scritti da Londra con amore, perché loro sono innamorati di Siena. Bene, leggetelo questo libro, anzi prima compratelo ovviamente, e poi leggetelo e fatelo leggere soprattutto ai giovani. Palio e memoria di Roberto Morrocchi.